Allora, ai microfoni di Lario Sport abbiamo Buon Berrizzo, autore della tripletta che ha ufficialmente salvato la Vasca. Diciamo che questa salvezza è arrivata un po' grazie ai vecchi in queste due gare di play-off, all'andata alla rete di Cucinella e oggi la tripletta tua. Che emozione è aver salvato la Vasca? Va bene, diciamo, questa domenica che si sogna. E' andata bene, sono riuscito a portare la salvezza ai ragazzi, che comunque è meritata, perché con tutte le difficoltà che avevo avuto, comunque, andare giù non ce lo saremmo mai meritati. Bene, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare a festeggiare. È stata l'ultima tripletta della tua carriera? Non lo so, probabile, però non lo so, dico sempre probabile, però vedremo. Adesso siamo contenti, chiudiamo bene la stagione e adesso si inizierà a pensare l'anno prossimo cosa fare. Va bene, allora in bocca al lupo e buoni festeggiamenti. Vi ringrazio, grazie a voi. Grazie.